Nulla, nothing, nothing of nothing, quindi Allora, dove siamo? Prendi un attimo, devo fare una cosa Questa seconda Ok Quindi Io parlerò un po' inglese e un po' italiano oggi, eh Perché abbiamo gente inglese in chat Quindi parlerò in inglese ogni tanto Allora, allora, intanto vorrei cambiarmi l'arma secondaria Ok, il pistolotto va bene Dunque E tu chi sei? Eh, va bene, cominciamo benissimo Allora, con calma Tutto è incazzato questo qui Quando togliamo il corpo? Ok, a noi due L'ho colpito, ma non è bastato Gli ho fatto il perri, ma non è bastato Ma però danno gliene facciamo, dai Non è così brutta la cosa Ale Sai, posso suggerire direzione? Sì, 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 direzioni sì Non ti preoccupare Io non parlo inglese Eh, sorry, Lemonti This bow doesn't speak English very well So I can translate that for you Ok, allora Corvi di merda Corvi di merda Non cominciamo a rompere le balle, eh Che oggi sono on fire Pebble, grazie Ok, ok, thank you No problem, I fella No problem, Lemonti Madman knowledge Ok Tira Abbiamo qualche occhio in più Per qual caso Se dovesse servire Allora, andiamo su Io intanto sto salendo Ok, là c'è un tizio con la lanterna Salve, tizio con la lanterna Ma è indicato Non si indicano le persone Non te l'ha detto tua madre Aia Ho fatto il perry Ma non ci arrivo E proviamo Perry Oggi Oggi siamo on fire coi perry, ragazzi Oggi siamo on fire coi perry Alla grande Dalla cattedrale vai a sinistra Dove ti hanno chillato tutti a volta Ok Torniamo indietro Ciao budino di morte Torniamo indietro Seguiamo i consigli della sua Andiamo quindi a destra da qui On the right Dov'è? 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 Allora Dunque Ci sono due di quei cosi Di quei tizi Beh che se muoio è vicino Però Aspetta proviamo a fare di No ho sbagliato Dovevo fare attacco pesante Non l'impatto Aia che male che fa Fanno male questi Perry Niente perry No perry for me No perry for me Allora No perry for you No perry for me Fiale Grazie Dov'è l'altro tipo Altro tipo Uh la è Aspetta 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 Wait for it Wait for it Wait for it Nice Eh però Non ti faccio il perro Perché non fai il perro Quicksilver Ok Exhibit ball Forma valentine Sono simpatico Allora Hola C'è gente lì C'è un cane Ci sono parecchie persone Ok Allora Come fare Come fare Sì mi stavo grattando il culo Se ve lo siete chiesto Se riuscissimo ad attirarne uno Tipo Pebble Qua via qua Via qua Via qua Ok Buono Buono così Doggo Ma io mi ha preso in pieno il doggo Morto Ok Una curetta me la sparo E andiamo avanti Ok Là c'è il tizio Allora Io vorrei provare a circonnavigare il tizio Per potergli fare Anche lui il dexter Però là c'è l'altro tizio Che fa la ronda Andiamoci safe Andiamoci safe Vieni qua Comunque sì La La mannaia Più due È molto Molto utile Per questa situazione Molto utile Ok Allora Andiamo di là Hello My beloved Fella And Got it Nice C'è un altro tizio C'è un altro tizio Quick silver bullet Thank you Andiamo di qua Andiamo a cosa c'è qua Cold blood dew Ok E moto Buono 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 Tanti drop Tanti drop Too much drops Too much drops Droppi Vedi disboio Parlando sia in inglese Che in italiano Ti posso Fare da magic english Praticamente A parte che white word Sa parlare molto meglio di me Io lo evidenzio Questa cosa Salve E lei Cane 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 E qua cane Doggo Wow wow C'è sì 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 Tornatevene al canile Cane di merda Aspetta 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 Una alla volta Preso Ma non è morto Che cazzo E qua Pebble Mancato tantissimo Che vuoi Stai facendo bene Ti hanno dato buoni consigli Ok No parlavo del fatto Che parli inglese bene Meglio di me Ah Nice Nice Perfetto Buono così L'unica cosa che posso dire E leggi con attenzione Ok Dove hanno chiato Per sinistra Ok giusto Sto andando Più o meno Sto esplorando tutta la zona Vabbè Intanto sto andando Dove mi capita Ehi 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 Ho il fucile Questo bastardo Vi è qua Vi è qua Vi è qua Che devi fare Questa è qua Sonti a fare una vita Ok Salve Knock knock Si apre una porta su Bloodborne Miracolo Che cazzo è successo Perché si è aperto una porta su Bloodborne E' un miracolo Ok Uh c'è un marchi ingegno Marchi ingegno Marchi ingegno si muove Cazzo sta andando troppo bene tutto quanto Non so cosa ho per Ah Ecco cosa ho aperto Ho aperto di là Ehi nè Il fatto che non ci sia nessuno in zona Mi spaventa un pelo Questa cosa Uh un droppino Droppino Ah Non cado Uh c'è un tizio là L'ho visto E' qui Dai Facciamola in fretta Sta cosa E' qui Dai Far Far fronzate Muoricci Buona così Sì Sto parlando Dove hai diversi Awards Of course Of course White Ward Of course Lots of Awards Like Oscar E altre shit Like that Ok Andiamo di qua Non c'è niente My La mia gola Allora Prima di scendere là Volevo ritornare a prendere il droppino Qua è dove abbiamo aperto Ora Ok Risaliamo un atto Ottimo Andiamo a prendere il droppino E poi scendiamo Mi sembra che sta andando tutto troppo bene Tutto troppo tranquillo Tutto troppo sereno Ma mi piace questa situazione Le cose vanno bene su Bloodborne Non vuol dire che mi sta per arrivare un palo nel culo Grande quanto una casa Quindi Dammi Gimmi 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 Ok Grazie Prima di andare di là Vediamo se c'è altro di qui Ma mi pare di Sì Qualcosa qua Hello In effetti sta giocando stranamente bene Oh mio dio Che è successo Ho fatto del git good Ok mi sa che qua abbiamo fatto il giro dall'altro lato Ok Aspetta E tu Non ti attacco Perché non mi è comparsa la barretta Chi sei? Alfred Lo salve Quindi sono ti e due cacciatori Anche lui Vogliamo cooperare oppure no Carino Abbiamo trovato questo signor Alfred Che ha un naso Incredibile Questa persona ha un naso Veramente è un compasso Non è un naso Quindi solo più forte Meno botte Quella è meno possibilità di fare cazzate Giustamente Cooperiamo col signorino Alfred? Yes Cooperiamo Bene Molto Molto elegante Questo è Fire paper Prey È un prete praticamente Ok Dice altro What the fuck Parla della chiesa della cura Parla di brain Parliamo di brain O di healing church Parliamo di healing church Che intanto potrebbe essere più Healing church Ok Quindi una specie di religione Nello strato elevato di cathedra Quindi mi dice dov'è patiente Quindi se cerco la cura al sangue Dovrei andare alla chiesa della cura Giustamente Ciao Disbo Che succede? Già So you know Salve di nuovo Oggi non fai niente? Ah ok Sì vabbè Non sapevamo se disbo Oggi faceva streaming oppure no Questo è tutto l'or Vabbè Buono a sapersi Quindi la chiesa della cura Sostanzialmente è una chiesa Che serve per curarsi Con il sangue Potrebbe essere utile Invece questo è un posto di insegnamento Tomba delle divinità Ah è una scuola Ok È una scuola Quindi sono collegate all'in-in-church Ok Quindi tutto ciò che è successo a Yharnam È riferito a Yharnam È abbandonato Ok Terreni di ventina Ok quindi Praticamente De Brininger O come cazzo si dice Ok Ok capito Quindi sostanzialmente Brin 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 È sostanzialmente una Un collegio Un collegio dove c'è Dell'insegnamento della cultura, delle conoscenze, su tutto ciò che è successo agli Arnam, ma è rimasta, ho visto un droppino credo, è rimasta abbandonata, diciamo, forbidden, cioè dimenticata completamente e segregata dalla Chiesa della Cura, che a quanto pare sono collegate queste due cose. Chiesa della Cura e questo collegio sono praticamente adiacenti, se ho capito bene, Whitewood, correggimi, ed è rimasta segregata con degli, si sa neanche se ci sono dei sopravvissuti là dentro, gli studenti che sono sopravvissuti, magari anche al disastro che sta succedendo qua del sangue, ok, e l'unico modo per poter entrare lì è conoscere la password che è conosciuta alla Chiesa della Cura, ok, quindi già ci ha dato delle direzioni. Ok, qua non c'è un cazzo, quindi possiamo andare direttamente giù, interessante, interessante, molto interessante, comunque no, Whitewood mi sa che Disbo è dovuto andare, non importa, non fa niente, probabilmente perché è tutto in inglese, forse dovrei ripassarlo in italiano, spero che non sia successo niente, chi è che mi scrive a quest'ora? Niente, ogni tanto mi arriva un messaggio, tempering, bloggia, ok, niente qua, niente qua, niente, mi sa che è l'unico posto dove poter andare qua, ma Disbo era di quelli che lo voleva in inglese mi pare, mi pare di no, mi pare di no, vabbè, magari è dovuto andare, Oh no, oh no, aspetta, non ero preparato, doggo Ok, aia, mi ha fatto il knockout Mancato, mancato male La stamina, mi dimentico sempre la stamina Beh, quando finisci vedi, ok, non è un problema Hi, welcome to Chile Felix Felix Ben arrivato Felix Però Felix, senza la fiammella veramente mi fa male al cuore Mi è triste, perché non funziona più un cazzo su Twitch Il mio triestino Effettivamente non mi risulti più neanche tra i subscriber, non so che cazzo è successo Non è golba mia, lo so Felixino, non ti preoccupare, tranquillo Lo so Lo so bene Senti, io non vedo un cazzo, quindi direi di usare La torcia Ok, qua non mi sembra ci sia altro, possiamo scendere Io volevo subarmi con tutta la mia sensualità, quanto sei sexy, Felix Soltiamo le cose Che ci piace Una lanterna Oh Felix, fino adesso perri a volontà, eh Dovresti pure Avere pure la lanterna Controllo Non ce l'ho Se è tra gli oggetti non ce li ho Andiamo qua Oh Niente lanterna Forse ho dimenticato di parlare con qualcuno Possiamo fare il paper, a proposito Ci ho niente di leggere fare il paper, cosa no Ah ok, si applica sulle armi per poterle mandare in fiamme Dalla tragedia che ha colpito Ordo Yharnam, il fuoco è diventato Staple Uno stampo, diciamo, uno strumento Nella caccia delle bestie E serve anche per purificare le impurità, giustamente I vertidivi di bestie hanno una anormale paura delle fiamme Questa potrebbe essere utile Dovresti, eh, se, se vabbè Perry a volontà e che succede Felix sta andando bene infatti oggi, non capisco La devi comprare, ah ok, la lanterna la devo comprare Va bene Ricordavo male Comunque credo sia in vendita al sogno Sai ti consiglio di comprare la torna comoda Va bene, appena torno la compro It's fine Fondamentalmente te la appendi al cazzo così Ok, va bene Va bene, va bene, va bene D'accordo Mi piace questo modo di utilizzare le lanterne sulle balle, però Ok Uh, aspetta Wait, wait Abbiamo trovato un falò Falò Una lanterna Nice Very nice Undacolo Cos'è successo? Perché mi dà adesso le lanterne a portata di mano? Adesso ci andiamo Adesso ci andiamo Tipo uguale base Ah, come base Io ho colonna portante delle botte contro la bestia Va bene, perfetto, grazie Ti offro l'abbonamento quando vengo Poi, effettivamente puoi regalare l'abbonamento se vuoi Whiteward Ti tiro dei diddi a forma di coltello se è solo Mi sa che Whiteward La può prendere come una provocazione questa cosa Provocazione nel senso buono, ovviamente Parliamo qua con i cazzini Allora La lanterna, mi avete detto La lanterna è questa qua Questa ha duemila echi Puttana Ma l'abbiamo presa Babine E allora equipaggiamola Come si equipaggia? O ce l'ho già sulle balle? No, non ce l'ho sulle balle Si deve mettere tra gli oggetti rapidi, tipo Uso illimitato, ok Vediamo Ah, che carina Quindi adesso la torcia non ci serve più Abbiamo una fonte di luce notevole Carino, 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 carino Mi tengo ancora I pebble Sai, girati il sogno e parla col nonno Parliamo col nonno qua sopra Ok Scusi, i libri li ho spostati Chiedo scusa, signore Un paradiso per i cacciatori Un paradiso sicuro Quello là Quello là il coso German Non mi sfidare Dipende se riesci a usare il mio dito Oggetto scopo di piacere Oddio Felix Va bene Quindi ha descritto sostanzialmente Il posto come un paradiso Si, un paradiso dove la gente Può lavorare Con gli attrezzi Qua nel workshop Tra altre cose Quanto costa fortificare La signorina Soul Cleaver 5 Bloodstone Shard Che comunque A quanto ho capito Si farmano Io quasi quasi salirei Il Soul Cleaver Perché mi trovo bene E E 280 Echi Che dite Lo alzo il Soul Cleaver? Io non lo becco mai L'ho notato tipo due volte E basta Jerry ve gli amici Ma chi? German Wait what don't you dare Qualt'altro Trovi fuori da edificio A dire cose interessanti Ah ok Alzala Ok Ok Alzala Come fai con le Ok l'alza Sempre delicato Il signorino Questo l'avevamo già letto Si Ok Sempre delicato Il signorino Felix Come Una farfalla Io ho visto L'altro giorno Questo Niente qua Si possono comprare Oggetti Con Gli occhi What C'è l'equipaggiamento Di cascogne Ragazzi Lo prendo Sono un bijou di quanto sono delicato Si infatti E' figo Eh costa Uno Due E tre Cinque Sei Ma non ne vale la pena Allora Ho sette di insight Quindi mi ne resterebbe uno soltanto Giusto per potermi tenere la vision Direi allora di fare una cosa Se vediamo che iniziamo a succare male Come difesa Ce lo mettiamo Fashion born for the win Come se Blood Non è stato dei vestiti Contassero qualcosa Ah no Ah e allora no E allora no Pensavo che avessero Della prevalenza E allora no Ancora non ho capito cosa sono questi altari Comunque In tutta sta Situazione Ho i Calis Non ne ho Ho i Calis C'ho otterrito A root Calis Non ce l'ho Ma basta quanto fai cagare Allora Dispo Ma si dicono queste cose Si dicono queste cose Ciccio i vestiti ti cambiano veramente Veramente poco E allora Non me li cambia Ok Non sono completamente inutile Ma alla fine conta come giochi Dispo Che è successo che prima ti sei lontanato Perché hai detto ciao Pensavo che ti eri incazzato per qualche cosa Sorry Aspetta un attimo Che cosa hai scritto Felix Oh mio dio Dispo Ma che schifo Felix Che schifo Ok Torriamo a oltre Arnam Non sono ben tenuti Ma alla fine conta come giochi Quello è anche vero Miss chance Una porta Dove porta questa porta Inspect Va bene Non ci vogliono Arrivederci Grazie mille Babini 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 Dicendo No homo Non è gay Dicendo no cromo Non è in chest No cromo Significa che usi firefox Capito Perché cromo è firefox Ragazzi iscrivetevi su questo canale Dove ci sono solamente battute simpatiche Per favore Per favore Per favore Open the door please Ma è chiusa È chiusa È chiusa È chiusa È chiusa Ho capito Forse ho capito come devo aprirla Permesso Non si apre Si apre Si apre Salve È tutto arancione Mi sai che questo posto È quello un po' bruttino Che cazzo è successo qui? Hai solo letto You dumb dumb State buona fortuna Hunter Didn't you see the warning? No non l'ho visto Turn back at once Va bene arrivederci Ah allora no no Grazie mille Va bene No 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 Arrivedercelo Sì 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 Me ne sono andato Me ne sono andato veramente Niente E poi lo ripeto di nuovo Niente Infatti è dunque Spade la seconda guerra mondiale Cosa? The hunter will face the hunt Ok Il cacciatore deve Deve affrontare il cacciato Ah no diventa quello cacciato Ok just run Hai presente il cacciabombardiere Una sensazione simile Che vuol dire? Che vuol dire corri? Hai adesso l'idea Che vuol dire? Questo simpaticone che sta parlando Ti fa riconsiderare la posizione I confronti del clero Ok Ehi 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 E tu chi sei? Aia Vabbè non fai un cazzo di danni Vabbè Ciao Sei morto Fai schifo Tu corri E io corro Devo correre Correre proprio E dove vado? Dove vado? Io corro Ma non so dove Too late Too late per cosa? Ditemi Aiuto Aspetta Aiuto aiuto Troppi troppi Siete troppi Siete troppi Siete troppi Siete troppi Siete troppi Te ne vai? Guarda che saltino maestro Maestrale che ho fatto Boom Tripla baby Oh baby A triple Tanto non ce la fa Deve capire da solo No ciccio fai quello che ti dice l'istinto E sto combattendo infatti Corri tanto non ce la fa Corri dove? Corri cosa? Dove devo andare? Io corro Qua è chiuso Salve Arrivederci No 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 Non ci voglio parlare con lei Di qua Ma non per quello Ok Io sto correndo a cazzo ragazzi Ok grazie Dove devo andare? Oddio No 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 Ma c'è una gatling No Vabbè ho perso 2000 echi Non sono tanti C'è un tizio con la gatling Ecco perché è la guerra mondiale Adesso ho capito Webbe fana stai calma C'è una gatling sulla torre se te lo chiedi E Grazie Felix Meno male che ci sei E corri E corro Vabbè ho perso 2000 echi Non sono tanti Non è un problema Sempre meglio dei 4000 che avevo prima Tra parte del gioco mi ha portato via un po' di anni di vita Addirittura Quindi devo correre Ok Ma sono fatta tutta cosa Ma verso dove? Verso Dove? Ah là è il tizio con la gatling Ok l'ho visto Io mi butto ragazzi Non so dove cazzo andare Appunto Appunto Sono morto C'è la scala però Verso dove? Quello è il grande problema Va bene Allora Non vedete queste morti come Sono scarso io Ma Più come un Sto cercando la strada Proviamo a buttarci un poco più a cazzo duro E a correre verso di là Dove stavamo andando noi prima Va bene Va bene Va bene Se può fa Solo che Questo colpo di classe della guerra mondiale Non me l'aspettavo Ma tu sei scarso Allora No sei scarso Andate a cagare Tutti Tranquillo ciccio Io ho pianto sangue pure io No vabbè Non è un problema Non ti posso obbiasimare Grazie Felix Per una volta che sei dalla mia parte Dai oggi non ti frusto Felix Oggi non ti frusto Promise Mi sa che mi devo alzare la stamina comunque Prevedo del farming di stamina In arrivo al binario 12 Salve Aia Corri 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 Ah 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 Corri 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 ragazzo laggiù Pappara Cuore del blu Mi curo Mi curo ancora Me l'ho fatta Ora vi leggo in chat Grazie padrone Prego figliuolo Ce l'abbiamo fatta Ci siamo salvati We did it We did it Tecnicamente buttando di lì Fai prima Ma perdi troppa vita Da con la caduta E invece Non sbatta di spiegarti la shortcut Quindi in caso Cedo a voi questo compito Sapi che la gatling Conquisce pure i mob Che puoi sfruttare per le coperture Utile Se salvati Come no Come non sono salvato Qua non mi può sparare Siamo dentro Siamo dentro Siamo dentro Non può spararmi Devo salire in cima comunque Non so dove cazzo sono Non ho idea Di dove stracazzo sono Nope State calmi State calmi Ok quello non mi ha visto Non ho visto tutti Ho visto Ah Salve signora Lei vende aspirapolveri No Tu sei una signora o un signore Nel dubbio Via qua 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 Mancato Manissimo Preso Quella Non si arrabbi Non si arrabbi Non si arrabbi Stia tranquilla Non si arrabbi Cos'è quel simbolo Perché c'è un simboletto La sopra Cosa causano sti cosi Maledizioni Sa di si Sa Tanto di si Meglio stare attenti A sti vizi Ah Non un altro colpo Cortesemente Grazie mille Via di qua Ora vi leggo In chat ragazzi Un attimo solo Che sto affrontando qua Il messere Ok A posto Dovrebbe essere veleno Merda Quel simbolo è la tua fine Ho fame Tu cibo Cosa Attento alle signore Va bene Poveri Gli fanno male gli occhietti A chi a me No Sto a posto Ma non si è riattivata la lanterna La devo attivare io Va bene Non è un problema Nice Me la sono messa sul cazzo Dovrebbe essere veleno Eh vabbè Fanno male gli occhietti Alle bestioline Ah ok Antidoto Urca No non è veleno Se qualcosa sarà Al massimo tu muori Cos'è maledizione Quello è veleno Vabbè C'è anche da dire Che mi ha droppato antidoto Quindi può essere Può essere che è veleno Sai Perché so che c'è la corsa Non so cosa fa Ma so che c'è la corsa La stamina Dimenticavo Che c'è una brutta cosa Chiamata stamina La stamina Che cosa è successo Non lo so Ma va bene A posto Mamma mia che brutta Ho tolto il velo L'ho vista Ok Aspetta Aspetta Sento rumori brutti Sento rumori Troppo Eh infatti Guarda quanti ce ne sono Via di qua Via di qua Farti garbare dalle signore No 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 Non mi faccio garbare dalle signore Quanti siete Quanti siete Tutti vi prendo Tutti 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 Non ce n'è per nessuno oggi Ok il veleno Ok Siete troppi però eh Due Merda Mi sa che Mi è successo qualcosa Credo Non so Ragazzi non lo so Che succede Oggi pro play Oggi pro play Niente Non ce n'è per nessuno oggi Oggi siamo on fires Blood vial Grazie mille Non fatti che bella signora Ti stuprano l'utera Immagina Faccio la signorina 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 Cortesemente Lei Ti faccio un po' più avanti Cretina Famina Che belli Il glitch del muro Perfetto Ho fatto il culo A favore Blood vial Poi la salve signora Mi ha fatto spaventare Prego prego si accomodi Prego prego Ce n'è anche per lei oggi Oggi ce n'è per tutti Prego si accomodi Ehi 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 Ho visto a lei Salve 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 No 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 Aspetti Una alla volta per carità Sto facendo fuori L'intero bioma Di questo posto Mancato male Mancato molto male Presi entrambi Niente Oggi Oggi va così Guarda che stile Guarda che grazia Mi suggesti Kirkhammer in this situation Vuoi il Kirkhammerino? It's time to Kirkhammerino Salve Bam Bam Boing No Boing Però è lento È molto lento Il Kirkhammerino Non funzionate Effettivamente Ok Proviamo ad andarci di spade Sento botte sberle Mi sa che viene da qui Vero? No Non viene da qui Ok Zona pulita Praticamente Prendiamo il droppino Droppino Blood Stop Grazie Grazie Graziella E grazie al ceppo di minca Andiamo giù Oggi siamo tonici Eh ve lo dico Allora Io ho visto Un tizio lì Ok E non mi pare Nient'altro Cosa cazzo è Quella roba Non ce lo chiediamo Per adesso Ok Era scriptato Il che mi vedevano Va bene Vieni Vieni avanti Cretino Ah è perché forse Ho la lanterna Vabbè Non importa Allora Via qua Combattiamo Ok La cosa buona Della spada Kirkhammer È che Consuma Molta poca stamina Salve Salve E lei da dove viene Addio E grazie per il fashion Mi direi mi sono chiuso dentro Perché mi ammazzo Cazzo è un vicolo cieco quello Ok Sbagliato buco Sbagliato buco That's what she said Quella roba uccidila E ora quella roba la uccidiamo Aspetta Ok Fuori il piccolo Dov'è la mamma Qua Salve Signora Ascolti Lei ha molta più vita di prima Non so se è perché è un altro mostro O non lo so Ho sbagliato tutta la vita Aspetta È a metà vita Ce la possiamo gestire Wait for it Wait for it Wait for it Fammi abbassare un attimo il veleno Stai buona Non urlare Ok Salve 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 Martellazzo Esfondamento frontale Ciccio combatteli Sì 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 Piano piano io me li combatto tutti qua Uno ad uno cadranno come tante pere Madman knowledge Grazie Bene Adesso Ok Adesso Quanto si deve andare Questo coso lo devo ammazzare questo schifo Ti può colpire Sembra di sì ma non fa Niente Mi sa che è una boss fight questa roba qui Spero che non si attivi Per ora Andiamo di qua Io so Sono Allora Questo Quello che sto vedendo adesso Quello che state vedendo adesso Si chiama Trappola Palese Non fa nulla Dici Felix Ok Ritual blood Non è mai una bella cosa Sangue rituale Ok Non è una trappola Va bene L'abbiamo scoperto Oh no C'è di nuovo il tizio con la gutling Vero C'è di nuovo il tizio con la gutling Porca puttana Dov'è Non lo vedo C'è sicuramente il tizio con la gutling Appena esco Ma quello è un mostro Salve Ha dimenticato le chiavi di casa Troppo palese quindi no Dove per attivare i calici Ah ok Cosa che per ora non ti tangono Se sei in un'altra zona Ok Quindi la gutling qua Non mi tange vero? No Sembra di no Corvi Quanti corvi Salve corvi No 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 I corvi Così tanti corvi no È pericolosissimo I corvi hanno il problema che Se ti prendono Ecco appunto Ti fanno multi attacchi No qua serve la mannaia Qua serve la mannaia Contro sti cosi serve la mannaia Tutta la vita Eh sì Guardala E' qua E' qua E' qua Ah 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 Ok Sì Annaia tutta la vita qui Aspetta Vale I corvi sono scemi Menani Aspetta Menani per prime Che li meni due volte Sai da Da qui puoi aprire una shortcut Per risalire Ok adesso la apro Vediamo se la riesco a trovare Grazie Miss Chance Vediamo se se non sei Riconosce la citazione Il potere di questa Eh Credo sia che è nel guerriere No Non è che è nel guerriero Era qualcosa che sembrava quello No Aspetta Non è la prima volta che sento Questa Questa frase Questa citazione Ah ok God of War Credo God of War God of War God of War God of War No dovrebbe essere God of War No non è Bleach Non è Bleach Credo sia God of War Bravo ragazzo Esatto È quello che dice Kratos A Atreus Nell'ultimo gioco di God of War Mentre spiega Come si utilizza un'arma Insomma Quei momenti di feels Tra parenti Eh si Eh si Eh si L'ho azzeccato L'ho azzeccato Maestro ho studiato Sono preparato C'è una scala qui C'è una scala qui Io però prima di Ascendere le scale Volevo vedere C'erano appunto Shortcuts Visto il suggerimento Di signor Missions Qua sali Ok Come non detto Saliamo Salga salga Vacci Ok ok Vado 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 bella gente Che mi date i suggerimenti belli Mi piace quando la chat Dà queste interazioni multiple Muovete Eh si Però stai calmo Disbo Stai calmo Disbo Stai calmo Porca tro Non si calma Oggi siamo pochini comunque C'è meno gente Non è un problema Buoni e calmi Esatto Esatto Ed è una Shortcut Non cadere Ok una shortcut Bene Non so per dove Però va bene Oddio forse so per dove Qua siamo all'inizio della zona Vero? Ehi 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 Fesfondo tutti Fesfondo Minghi Aspetta ma qua non c'è la gutling Vero? Wait Qua c'è la gutling Ehi C'è la gutling Avevo ragione Che paura Torna indietro alla destra Aspetta che c'è un tizio Aspetta che c'è un tizio Dove cazzo sei? Telecamera di merda Dov'è? Qua è Ho visto Via qua Via qua Crettino Uè ma un cacciatore come me All'arma è E il problema è che c'è Gatling Kun Perché non volete farlo ammazzare qua? Ahia Allora Figlio della merda Se non vieni qua Ti tiro un pugno No 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 Io non ci vengo di là Ciao Ciao No 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 Bisbo 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 Come Felix E vabbè Ormai Vié qua Vié qua Vié qua Vié qua Giusto Sono un cretino Sbagliato Non si è distratto Oh si si è distratto Ok Dicevo Facciamo una cosa Teniamoci la lanterna come oggetto rapido Al massimo sbagliamo il tastino Comunque Scusate ho avuto un attimo un reset al cervello Perché dopo quello che è successo poco fa Come di Un'altra under torch Vabbè Cerchiamo di restare un attimo più chill Ok Più calmi, più tranquilli, non c'è so niente Nessuno ha visto nulla Nessuno sa niente, tutto bene Benvenuti in questo streaming Qua si muore Circa Però mi sa che non c'è altra via di Al pezzo Qua c'è qualcosa Mi sembra di no Qua Devo passare Devo passare Non c'è altra strada No Nop Niente Dobbiamo scendere per forza Credo Niente Nop Niente Ok scendiamo Questa si apre No Appena hai aperto la short Non hai spiegato inutilmente la vita Sì quello è vero infatti Infatti Allora Ok E ora Ok Posto Non so dove cazzo sto andando Ma va bene Open door Cazzo Muori No disbo No Non muoio Vuoi che io muoio Cazzo stiamo andando Mi sa che però Qui non c'è altro Là c'è una porta Sarà un'ambiente Un'altra shortcut Niente Dobbiamo andare a forza Io non muoro Va bene Vuoi che muoro E per caso che muoro Scale Posso capirei di aver fatto una strada per nulla Non è un problema Non è un problema Almeno abbiamo capito dove si Ok Promemoria per me Tenersi lontano da queste scale Perché sono troppo alto Oh no Un droppino Dai non è inutile Di cazzo Bene Buono Ah guarda Ok ho capito dove siamo Abbiamo fatto il giro Va bene Va bene Va bene Ok dobbiamo correre di nuovo Fuck Va bene Però è da Da qui in poi Dopo il ponte Che bisogna Inizierà Ora Ora Run Nice Nice Ok Ok Qua è dove c'è la shortcut Vero Perché lì c'è il cacciatore Ok Run boy run Ok 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 ce l'abbiamo fatta Quindi qua c'è la shortcut in teoria da qualche parte Cacciatore vieni Vieni Cazzo quanta vita ha No 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 Troppa vita Ho sbagliato strada Tu vieni qua Ha una marea di vita quel cacciatore lì Una marea Scala di te per andare a cuccare la gatling Questa è qua C'è una scala per salire sulla torre da lì a qualche parte Qui 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 Andiamo a rompere il culo a quel bastardo Ora con molta calma Non è qui Ah no qua Ok si sale ancora Oppure si scende No saliamo saliamo Buona fortuna Lui rompe il culo a te Merda Merda Volevo anche recuperare gli eki Tra le altre cose Qua si cade malissimo Qua si cade malissimo Qua si cade Menchio Qua si cade male Ma di un male Allora No mi vede No 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 Aspetta Ok Allora aspetta Porca puttana Porca puttana No Mio dio Ma è fortissimo Questa è forte Questa è molto forte Mi ha fatto il Perry Mi ha fatto a me Il Perry Sto figlio di puttana Mi ha fatto a me il Perry Jesus Christ Porca puttana Puoi cercare di buttarlo Di sotto valendo Ma se lo fai Ti si bugga E non ti da la gutling Si ma è molto forte Quel tizio Estremamente Estremamente forte Ragazzi Come cazzo L'ho combatto Quello lì Poi in una zona così Così piccola Ricaricare la stamina E corriamo Vai puntami 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 Ok Ora Cazzo Cazzo Mi ha già puntato Ok Via dalle balle Cacciatore Ok Quel tizio è forte Però eh Quel tizio lì È fortino Cacchio Via dal cazzo Ok Allora Non so come fare Non so come fare La smetti tu di venire Andare Andare Venire Via qua Allora O combattiamo O te ne vai Guarda come vai in retromarcia Mi piace come vai in retromarcia C'ha Come cazzo facciamo Allora Questo tizio è forte Facciamola Allora Riproviamoci un'ultima volta Ok Tentiamoci almeno Ammazza quel cacciatore sotto Quindi questo qua Ok Ammazziamo il cacciatore giù Scendi Così non respawna Ah non respawna Nei cacciatori Allora sì E qua E qua Cretino D'altra cosa Abbiamo aperto la shortcut E chi non ne abbiamo da perdere Quindi Non voglio dire E qua Io non combatto Riccio il tizio con la gut ring Se vieni tu per favore Appunto c'è il tizio con la Tutto 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 Fammi curare Puttana È inutile Vai in retromarcia Via qua Vai in retromarcia È un pezzo di merda Dopo No cose molto belle Spesso Ok E immagino Può avere tutta Stavita La stamina Mina Eh eh Waka Waka Oggi faccio versi Di un piccolo gattino in calore Ora capisco perché Ti ha tolto anni di vita questa zona Felix Porca puttana Mi sta avvenendo un dolore al collo incredibile Un torcicollo della madonna I perri ciccio I perri Non mi rompere i coglioni con questi perri 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 nei miei coglioni Smettile di attaccare e schivare come uno spastico con l'epilessia No Come uno che ha giocato a Neo per troppo tempo Questa è la verità È da set Dai bono tu Non sulle fiamme Non sulle fiamme Ok Quello ha iniziato già a sparare Rotola ma quanti anni ci stai ogni volta E che cazzo Eh cacciatore di merda Miechi Presi al volo Presi al volo miechi Anche se erano belli Erano zero Wow Ok E qua 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 E se ne vai a retromarcia Guarda 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 Te sparo pure Bastardo Ora ti faccio il perri Ora ti faccio il perri Ora ti faccio il perri Non me ne frega niente E qua Sono qui Sono qui E qua vieni No l'altro tizio no L'altro mostro no Vieni qua Vieni tu prima avanti Vieni avanti Cretino Ok Ciao Ehi la Fai bono E qua Cazzo non era un perri Ma va bene Questo è un perri Che glielo faccio Non gli tolgo Non gli tolgo una minchia Buono così Va bene Andiamo a colpi di perri Mi sta bene Dove sto sparando Vieni Vieni avanti Cretino E qua Bravo Niente Ti spreco tutti Non me ne frego Sicura? Ma sei stronzo Ti perro No ragazzi è dura È dura Così è dura E allora no Non posso perriare sempre Va bene Me la gioco Me la gioco Non mi interessa Ai Dai che gli ho tolto Metà vita Circa Mi cura Non guardo la chat Ragazzi perché sto combattendo Scusatemi Vieni 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 Va si è bruciato il coglione Vieni qua Vieni qua Bravo Cretino Ho sbagliato Bravo Presso Non so come Ha cure limitate Ne ha poche Pesta Non c'entrano a segno con io Come stai giocando ora Che ne sai tu Via qua Via qua Via qua Mezza vita Hai Il peri l'ho fatto Ma non è entrato a segno Ok Cioè il colpo dovevi averlo Gli l'ho dato Nel momento Migliore Mi curo Va bene Non ha importanza Me la gestisco Anche se finisco i proiettili Non è un problema Tanto poi li recupero Chissene Hai finito di cambiarti l'arma Perry Buona cosa Lo colpisco anche mentre ti rialzo Non vado troppo avanti che c'è Gatling Kun E qua E qua Facciamo management Possa stai Perché stai pulendo il legno Via qua cretino Cretino Aia Mori 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 Non more Non more No 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 Non ci credo Ok morto Buongiorno Grinco ben arrivato Ah Che droppino mi ha dato Bon marroash Ok grazie Non spavano più Ah ok 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 Ben arrivato grincolino Stavo per morire Contro un nemico Che aveva uno sputo di vita Come hai potuto vedere Andiamo a farci Andiamo a farci il tizio Andiamo a farci il tizio Sto sudando 69 camicie Però adesso non ci sono più Non c'è più il tizio Il cacciatore Ho visto Eh si Grinco Oh Grinco sei pronto a Minecraft? Eh? Tu sei pronto a Minecraft? Io no Sei piccolo suggerimento Dimmi Miss Chance Prima di salire Leggo il tuo consiglio Io ho finito un giochino Scemo con output Su console di Windows Cos'è? Tasto su Uguale Meno vita Sì lo so Lo so Non lo so Lo so L'ho scoperto a mia spesa Dici per potermi Riutilizzare i proiettili È vero Comunque tenendo Ho premuto cerchio Mentre sali le scale Sì lo so Lo so Perix Lo so Lo so Lo so Anche quello Allora La laggia è pronta Va bene Fammi salire Ho detto fammi salire Ok questo tizio mi farà il culo Lo so No non cadere No dai fammi curare Io voglio sapere Se esiste un culo Del genere No No Sulle scale Per giunta Sulle scale Cioè mi ha proprio servito La Gatling Guarda Come il tizio Con la Katana Di Daxall 3 È stata una battaglia Difficile Ma alla fine Ce l'abbiamo fatta Non è culo Il drop Spera di poterlo recuperare Sì sì L'ho recuperato Che culo infame Esatto Ok è culo Sì ragazzi Perché è caduto Sulle scale Che culo Della minchia Ragazzi Porca puttana Porca puttana Ragazzi Questo è culo Posso smontare Questo arsenale Della morte Di no bo Non farlo Che cadiamo Non farlo Ok Torna al sogno E prendi la sua arma Ti prego Ho abbastanza Echi Quanto costa? Con tutte le mani Bruciate Ok Adesso mi sento Molto più tranquillo Allora Se Gli echi Che servono Sono sufficienti Torniamo Ora volendo Lo puoi sprovare Con più calma Li hai Li hai Hai anche le gambe Da scambiare Le gambe? Le gemme Perché ho letto Le gambe Da scambiare Per echi Ah vero Le gemmina Hai ragione E allora torniamo indietro Mi pare che si torna di qua Se non è rotta Tutti i mostri Però siamo molto più tranquilli Non ci sono nemici Non ci sono Gatling Non c'è niente Possiamo tornare con tutta la calma Di questo universo Salve colbo Colbo di melda Quanti siete? Quanti siete? Quanti Quanti siete? Quanti siete? Non siete più Bene 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 Ma no Benassi Ma c'è un tizio Vabbè Perfetto Questo cadavere appeso Si può Ma è appeso dalle gambe E avvolto alle mani Madonna mia Che tortura E anche le gemme Scambiare Scala Sì 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 Avevo visto C'è anche una blood vial Grazie Ascendiamo Il metodo di oggi Piove gente Esatto Sereno Poco nuvoloso Con possibili precipitazioni Di nemici Salve signora Ascolti Io devo andare un attimo A casa A cambiarmi l'arma Se cortesemente favorisce Le sarei grato Grazie mille signora Anche lei Cortesemente Lei mi sembra uno di quei classici vecchietti Che si trova alla posta Che attende il bigliettino Dice ma lei che numero è? Eh Io sono prima di lei Antidoto Grazie Mi fanno male le spalle ragazzi C'ho due travi a posto delle spalle Dove cazzo sto andando Tra le altre cose Droppino C'è un droppino Bloodstone shot Grazie Comunque sai Io la prima run Sono rimasto giorni In questa fottuta zona Quindi devo intuire Che sono andato Estremamente di culo Estremamente Ditemi che sono andato Estremamente di culo Mi renderete fiero Della mia fortuna Non so dove cazzo devo andare Sento passi Piedi Movimenti Robbe Di qua Andare di qua Oh salve Lei si è accorto di me Certamente vuole venire Anche l'altro si è accorto di me Va bene Venite Aia No Questo no Questo no Questo no E no E no Ok Ho finito la stamina Ovviamente Seriamente Seriamente Corta solo Ok È andato estremamente di faccia Ok Giocavo di peggio Ok ok Va bene Non hai idea Tu non hai idea del culo Addirittura Felix Va bene Va bene Ok andiamo di qua Non so se c'è altro di qui Un droppino Un droppino Antidoto Bavini Gattia Ah lì è dove eravamo prima Mi sa che abbia fatto il giro sbagliato Credo Quanti corvi Porca puttana I danni che faccio Col maceta Mister Sun Bring me a dream Che c'abbia fatto Broadstone shard Grazie Grazie Salve Che paura però Stia calma Chi è Chi è No 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 Non ci siamo proprio Cura Via 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 Get a fuck out of fear No thank you Grazie Arrivederci Addio Grazie per il pesce Anche se un po' Comid in crash Va andate bene Affanculo tutti Via di qua Ah 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 Scusate Oggi sono molto canterino È morto qualcosa là sopra Va bene Sarà buttato Nice Due sono fuori Ok Tempering Gem Bloodstone Ok Con calma La camera Ci provo Niente Non importa Gli avrei potuto fare Una roba simpatica Ma non è riuscita Non importa Vale Bene Quindi qua cosa c'è Troppino Blotting Sto trovando delle robe incredibili Non so neanche io cosa sono Poi dopo le vediamo tutte Antidoto Vabbè questo lo so cos'è Ok Credo che ho fatto Un giro della madonna Salve Che di qua Calma 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 Ok Perfetto Aprire e chiudere l'arma In movimento È un'ottima cosa Ok Perfetto Buono così Buono così Cold Blood Due Perfetto Ok Bene ma non benissimo Mi sa che siamo tornati indietro Perché questa zona me la ricordo Ho sentito Lei non si alzi Cretina Ehi ehi Siete troppi Siete No 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 La orgia no La orgia no La orgia no La orgia no Cura Troppi 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 Arrivederci Diete qua Combattiamocela in una zona più aperta Forza Ok fuori uno Buono Qui e qua No la maledica Vero c'è il veneno lei Cazzo L'ho dimenticato Buono così Ok next 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 Qua Tu sei mezza morta Perfetto Arrivederci Next E qua E qua E qua E qua E qua Perfetto così Che bello la mannaia ragazzi Che bello Che bello Ok Nice Stata bene La mia povera voce Ok Siamo Siamo tornati indietro Ma che cazzo Allora aspetta Devo andare di qua Allora Stavolta non sbaglio strada Di qua Le scale Ho fatto un giro inutile Però Ho farmato un botto di echi Un botto Allora io mi ero buttato da qui Giusto Salve signora Ascolti Un attimo Lei Ti ha una regolata Esattamente Ok Perfetto Non ha neanche droppini Io però mi ricordo di essermi Ah forse mi sono buttato da più in alto Ok Allora Allora Devo salire Devo trovare un modo per salire Suggerimenti su come salire Chat C'è una scala da qualche parte Qualcosa per poter tornare In serenità indietro Trovata A posto Forse ci siamo riusciti Vediamo Sì siamo tornati Ok grazie Grazie comunque No 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 Stavo vedendo un attimo Stavo perdendo frame E che cazzo E qua Ok Sto finendo tutti gli echi Ma ne valsa la pena Ho fatto un giro incredibile Ok 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 A posto Possiamo tornare Possiamo tornare Ok Beh Non ti incacciare Perfetto Perfetto così Permesso Ah C'era un oggetto da quelle parti Dove? Aspetta Lì nella zona Dello spiazzo Aspetta che lo prendo Se è nella zona dello spiazzo Va bene Se è troppo lontano Ci andiamo In un secondo momento Aspetta che vedo Checking Checking Scanning Analyzing Non mi sembra Non mi pare Salve signora Sì c'è un oggetto qua Sì c'è un oggetto qua Aia Ok Colbroodio Vabbè Scino i primi medici della zona Sulla sinistra Dovrebbero Dovrebbe essere questa la zona Aspetta I primi nemici Perché medici I primi nemici della zona Ok sì quindi qua Sulla sinistra Quindi qui Sento passi Sento movimenti Nice Ok Troppino 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 Molson sharp Bene Stiamo raccogliendo Un botto di roba Un botto Quello che hai preso Sì perfetto 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 Nice Quanto pare Ne abbiamo trovato Anche un altro Che neanche mission Si ricordava Buona così Torniamo indietro Dov'era Aspetta Disorientamento mod Aspetta un secondo Ok no La si va per la gatling Quindi qua a sinistra Devo andare Ok qua Perfetto Io era pussy man Non sono una pussy man Ho portato un mio amico In live Saluta Lenny Ciao Lenny Ciao Lenny Ben Arrivati In questa situazione Scomoda Dove vedi gente morire E soprattutto Disbo Stai calmo Stai calmo Ciao Lenny Bravo Grinco Ciao Lenny Mi faceva kendo Ma non so se lo ricordi Se mi dici il suo nome Non Lenny Lenny Probabilmente si Ubimarve Eccoti qua Ciao Ciao Ubimarve Ben arrivato Ciao carissimo Non fare caso Alle mie scarsitudine Perché Come Ben sai Da quello che Sai sono io E da quello che ti ha detto Felix Sono uno scarso Di merda Bloodborne Comunque Vediamo Quest'arma nuova Vediamo Quest'arma nuova Acqua Cos'è stake driver Cos'è sto robo E' questa vero L'arma che dicevi tu Felix Luigi Ah si che mi ricordo Di Luigi Forse però è venuto Per relativamente poco tempo Mi ricordo un Luigi Però si 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 Non è una cosa Completamente vuota Per me Domanda E' il rifle spear Lo stake driver Cos'è cos'è Ah ma è un Machamp quello lì Disboccia Machamp Che è una roba che in pvp Shotta Veramente Non ricordo Guarda anche sulle armi da fuoco C'è la repeating pistol Ho avuto problemi di salute Sono lì Eh vabbè Non ti preoccupare Ubimarve L'importante è che sono passati Eh machok Ok Non si vede dal numero di Di braccia che ha Ok Eh allora Questa roba qui E' interessante Questa roba qui Non la possiamo prendere Perché servono 8000 No no E' quello di prima allora Quindi il rifle spear Mi sa che è rifle spear Vero? Lo vogliamo provare? 4000 echi Perché no? Tanto le armi le prenderemo tutte No no Il driver coso E' lo stake driver Ok Che mi dite? Rifle spear lo prendiamo? Cosa mi consigliate? Chat Prova anche il rifle spear Ok quindi lo prendiamo Lo prendiamo Dritto in quel posto Rifle spear è strano Sai puoi aprire i dettagli Di quella da 8k Sì Eccoli qua Qui ci sono i dettagli Porca troia Più 11 Sembra forte Ah però servono 18 di forza Che io non ho Quindi non la potremmo neanche provare Stake driver Stake driver permette elevati danni con attacchi critici Ma è difficile da usare And leaves it with her Ok e lascia scoperto il portatore Ma niente tutto ciò può annoiare un po' di polvere da sparo Io lotta a vita Quali sono i vostri preferiti su pokemon Fuoco ovviamente nel mio caso Fuoco elettrici anzi Magari ti piace? Boh Ora lo vediamo Non è malaccio Guarda che Che è Unitinta Ah ok va bene Perché Non so mi hai confuso Vuoi trovare cosa vuoi da me? Mi vuoi molestare Che cazzo? Sbagli ma che ma altrimenti ti pesto Va bene Ok Allora proviamo 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 Il rifle spear Sperando che ho le stat Non ho minimamente le stat Ragazzi non possiamo provarlo È inutile spendere 4000 like Se non possiamo provarlo Serve 9 di arcano 11 di Skill 11 di skill È un po' arduo È un po' arduo Niente saliamoci le stat E poi in caso lo prendiamo Va bene It's fine It's fine Dobbiamo per forza Sere di verde Dov'è la Dov'è la La bambola? Signorina? Signorina Signorina Dov'è la La signorina? Signorina Non è che l'ho colpita per errore Vero? Che è morta Per sempre Ah no qua Che paura Signorina Grazie Signorina Che cazzo ci fa lì a pregare? Canalizzare Chi dà il sangue Ok Che paura però Alziamo la skill Ah è Blotting Ok Cosa fa Blotting? Un cazzo Io alzerei la skill Anche perché scala con le mie armi E aumenta sempre la resistenza fisica Ok Alziamo la skill Ti fa usare le magie No Non è l'arcano È il Blotting Ok Va bene Alziamo la skill intanto Aumenta il danno delle armi da fuoco Non sembra Ma ok Praticamente con l'attacco caricato Della forma alternativa Dello stick driver Lanci una mini esplosione A corto raggio Che fa un boato Di danni Cazzo Ok Sembra forte Il Blotting Aumenta il danno delle armi da fuoco Di un cazzo Ah ok Bene Mi piace come è chiara la signorina Whiteward E alcune armi scalano su Blotting Ok Quindi probabilmente il cazzillo la sale Scala con Blotting Aumentiamo la skill comunque Level appiamo la skill Direi di Quanto tempo abbiamo a disposizione Che era 4 e 21 Ok Facciamo un poco di farming E proviamo a raggiungere Almeno Le stat Ah no aspetta Ho le Merda Ho dimenticato che c'ho le cosine Le Le pietre del culo Volanti più 10 del sangue Che mi danno Gli echi Dimenticavo Sono un cretino Torniamo indietro Scusate ragazzi Scusate Dimenticavo Stacchi alle 5 5 meno 10 5 meno un quarto Più o meno Più cacca Stai calmo Felix Stai calmo Pietre di sangue Esatto I cazzi di culo Più 10 volanti Sono quelli Sono proprio quelli Le pietre di sangue Le Bloodstones Comunque Ubi Marv Se dovesse capitare Che o vieni al kendo O vieni al gioco di ruolo Grazie al supporto Sacro santo Di Felix Mi può anche fare piacere Così ci rivediamo E Insomma Chiacchieriamo un po' Perché no Allora Pietre in culo Dove sono? Quando sono Use col sangue Tutto è rinato C'è un follower Oh Ubi Marv Ubi Marv Grazie per il follow Ben apprezzato Ben allietato Grazie mille Grazie mille Quindi A parte che ci sono Nuove equip qua Stavo dicendo Che cosa sono queste Per cominciare Ah Alzano le stat Quelle robe lì Ah no Serve a fortificare un'arma Ok no Niente Serve per craftare Danno effetti diversi Va bene Ehm No E allora Stavamo dicendo Pietre di sangue Sì Scusate Avevo un attimo Spaziato nel mio Cervello Per capire Che cazzo Devo fare Usiamo quelli Più piccoli Per adesso Me ne dà altri 3500 Quanti me ne servono Per salire Dall'ovallo Ci penserò Non sarebbe male Mi farebbe piacere Ubi Quando capita Ovviamente Senza Impegni prioritari Allora Me ne servono Altri 2000 Ma che ne sanno I 2000 Va bene Che salto All'indietro Quindi Altri 2000 Vediamo quelle là Da tier 2 Quanto Costa una Vediamo 500 Quindi Me ne servono Altre tre Altre tre Ce l'abbiamo Altre tre Ce l'abbiamo Altre tre Go for it Boink Canalizziamo E alziamo A questo punto La blotting Giusto? Aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Popopero Dov'è 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 Qua Si blotting Ok Scusate un attimo La fase di Analisi Della situazione Ok Mi serve Un altro Livello Di blotting Ok Quindi me ne serviranno altri 4500 ecchi Dovrei averli Vediamo se ce li ho A lei, a lei, arrivederci Tanto tra poco le riparlo Vediamo cosa abbiamo Sono curioso di usare Allora, domanda Se uso la più potente di tutte È uno spreco a livello di lore O la posso utilizzare senza incorrere a problemi gravi Domanda da un miliardo di dollari Perché qua dice che serve guadagnare Un'ampia quantità di echi Che non mi dice però quanto Il bastardo non mi dice quanto In teoria 6 di tier 5 dovrebbe essere tipo 5000 Vai vai Ok, proviamo a usarla Quanto mi dai? Merda, non bastano Non bastano Non è la più potente, non è uno spreco Solo a quello servono A te servono per la lore i cordoni ombelicali Ok, va bene In teoria me ne servirebbero altri Allora, rischiamo Mo c'è il rischio No, ci arriviamo? Cazzo no Quanto mi manca? Quanto mi manca? Mille Allora Allora Mo C'è la fase più brutta Dobbiamo farmare Mille echi Senza morire Se moriamo Finita Finita Non gli hai spiegato cosa sono e perché It should be fine Va bene E tanto non li beckerà mai Giustamente I cordoni ombelicali No, non è Ah, no, no, no Disbo, non ti preoccupare Non è spoiler Sereno Non è spoiler Hai detto cordoni ombelicali Senza dire Che cos'è I cordoni ombelicali sono quelli che c'hanno i bambini quando nascono Niente di incredibile Insomma, ciccio Vai a sgozzare Donnici Felix Allora Ma no Almeno non incinta Dai Se li trovi Non li usare I cordoni Va bene Va bene Va bene Non so cosa servono Però va bene Let's begin The farming Very very hard Una passeggia da Yarnam Così recuperi pure un po' di fiale Eh sì Sto provando a Yarnamizzarmi Senza morire Perché se muoio Inveisco su qualche divinità Non nota Va bene Per non dire che Altro No 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 Troppi 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 State buoni State buoni Vieni qua Ale Olè Felix Disbo Hai dato un'idea Cosa Cosa Che idea c'è Che è successo Ha avuto un lampo di genio Disbo Salve Salve signora Lei l'ha pagata La posta No Bene Blood vial Thank you very much Altri 500 400 circa Forza Forza che ce la possiamo fare Senza morire Dai cazzo Woohoo Passa Nice Nice Dai che Dai che con la mannaia si farma Easy as fuck E qua E qua Cretino Ale Perfetto Perfetto Eila E quell'attacco dal nulla Non l'ho visto Dai E' buono Ehi Qua Olè Nice Altro Dov'è Sento passi Sento passi Non capisco da dove Dov'è E' sparito Ok 4008 Dovremmo esserci Mi pare che bastano Si bastano Ok Grazie E arrivederci Fatma sei troppo matto Sui cordoni americani Uno si ottiene Tu sei come Vai a setra Che cazzo è setra E buttati Eh Cosa Perché Perché queste cose Contro i termini di servizio Di twitch Il suicidio non è previsto Su twitch Non si può fare Mi spiace Vai a sega Che vuol dire Devo Devo fare una masturbazione Assidua su qualcosa Vai a destra Sestra Pestra Cosa state dicendo in chat Aspe Aspeci Aiuto No non dovevo Scusa Scusate Rifle Spear Non comprare Rifle Spear Aiuto Che succede in chat Non compri Rifle Spear Non compro niente Torno a Che paura però È un oggetto ad aria Aiuto Aiuto No aspetta Torno Sto Sto tornando a Yharnam Sto tornando a Yharnam Non mi fate sclerare Aiuto Wait 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 Allora Sto tornando Vado a destra Appena entro Vado a destra Cioè appena Allora Seguo le vostre indicazioni Vado a destra Ok Non sto comprando i Rifle Spear Comunque Devo andare a destra Giusto? Di qua? Sì? No? Boh? Disbo? Ah ah Sono simpatico È un oggetto dell'aria Lo puoi trovare Solo che non mi ricordo dove E questo è un problema Gente della chat Da tutti i mondi Da tutti i luoghi Da tutti i laghi Vi invoco per sapere Dov'è l'oggetto Che mi state chiedendo 4.000 L'oggetto Mi fate usare Di già i cosi So che c'è un tizio Qui dietro È qua Dovrebbe essere qua Qua è? Allora Nella zona dove stavo formando Prima Dovrebbe essere questa Io ancora sto andando Qua in tondo Ditemi indicazioni Che io Le seguo Ok Per adesso Sono in questa zona Ok Qua è chiuso Non c'è niente Pareva una porta Vi continuo ad ascoltare Se mi scrivete in chat Dove andare Io E seguo Tanto Poi ci sono già stato Prima e c'era Un oggettino E l'abbiamo preso Non mi pare ci sia altro Ma cosa c'è? Giù dalle scale Sai Se non ricordo male C'è un'altra zona Prima della seconda Rampa di sca Prima della seconda Rampa di scale Per andare Per andare al tizio Dal gatling Saltando Allora Aspetta Una cosa alla volta Intanto c'è un drop La Una heavy blood Gent Grazie Quindi per andare al tizio Dal gatling E' qua Prima della seconda Rampa di scale Ok Ok si ho capito dove Ora mi ricordo Ok si Aspetta un attimo Che ammazzo i nemici Ho capito dove dicevi Posayal Ma fai il verso di un grizzo Di questo tizio Niente droppino Qua c'è qualcosa A parte un nemico Che sento camminare Eccolo Non su le fiamme Grazie Mi ha lasciato qualcosa No Va bene Checking della zona Clear Ok Vai tutto a destra Ora Tutto a destra Quindi di qua Ok Ah qui Qui Ok Va bene Era dove eravamo Prima Ok Salve Oh no Aspetta che tu mi Mi abbeleni C'è un punto in cui puoi saltare Sciccio dimmi dimmi Fenix dimmi Dimmi Un punto in cui posso saltare Quindi qua sul patio Dovebbe essere tipo Ciccio cazzo Che cosa Fenix E' inutile che mi scrivi Ciccio ciccio cazzo Non queste scale Non quelle scale Ok Torniamo indietro Ma non è che è qua per caso Vero? Non è di qua vero? Torna su Perché effettivamente qui c'è un punto dove buttarsi molto male Ma molto male Però mi sa che è un po' gravosa come cosa Torno su No 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 Ok torno su Torno su E allora Tutto a destra L'unica cosa che mi viene in mente è scendere da qui Scendo di qua E vado giù Nostro punto E qua Fatemi 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 sentire Popolo del Della Tract Che ho bisogno di voi Dove stanno i corvi? Ok Allora ho capito E' qua sotto Ok I corvi ce ne sono lì Tutto a destra Ah là devo andare Devo andare di là vero? Torno su No scusa Che cazzo succede? Felix Felix Le corvi laggiù Va bene Ma non mi fare incasinare Allora Buttiamoci qua Ti faccio una caterba di male Mi curo E seguo la zona Aiaiaiaia Piano piano Una volta Una volta Una alla volta La madonna quanti danni il corvo Complimenti Corvo di merda Ti sei farmato bene Ok Non c'è niente qua Ti devo Devo scendere di qui I guess Ok qua è Oh mamma mia E come cazzo ci vado adesso? E qua ragazzi? Guardati dietro Qua intendi E porca troia Ci muoio malissimo No dai No Aspetta come si salta? Come si salta? No non è così Come si salta? Perché con la rotolata non ci arrivo Devo Devo Il salto come si fa? Inizio lo stream Ci vediamo dopo Ciao disbo Dopo ti lascio l'hosting Salto della fede Tieni prenduta la corsa E poi cerchio Ok grazie Perché non ho mai capito Come si faceva il saltino Quindi Corsa E poi cerchio Aha Ah ok Corsa E poi cerchio Ok Corsa E poi cerchio Fatemi un attimo Provare ragazzi Ho tirato credo un mostro Vabbè Facendo il cretino credo Sì c'è un nemico là Aspetta un attimo Faccio fuori il nemico Ah c'è anche un droppino Eccolo Corri e premi alle tre Ah no 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 Giusto come hanno detto i ragazzi Sono un cretino Non l'ho visto quello là Ok E' morto A posto così Poi blood you Perfetto grazie Allora Quello è dark soul Se parte perché E' pieno di nemici Pura Ok così E allora Ragazzi siete pronti Per la stronzata dell'anno Io no Pronti Mario A posto Non sono morto Ho sbagliato Va bene Ma non sono morto Ok non si muore a quanto pare Bene così Risaliamo su Prendi Allora c'ero riuscito Ma ho fatto una rotolata di troppo Non è successo niente ragazzi A meno che non sono andato nella zona giusta Sono andato nella zona giusta Bravo me Ok ottimo Era qui allora Ok era qui Giusto allora E' giusto di qua Ah ecco infatti sono tanti nemici Ok si Ah no 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 Aspetta Ah quanti si è No dai No ragazzi Troppi sono No non ce la faccio così Detarghetta Detarghetta Ok via 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 Ah Porca puttana Ok qua fuori Qua fuori Venite fuori Vai vi siete bloccati Vi siete bloccati sulla porta Buono così Cretini tutti Buono così Lui è uscito Va bene Cazzo mi ha preso Non è un problema Pura Ok Next Vieni qua Coglione che ti sei bloccato la porta E qua Morto anche lui Forza next 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 Ormai sono on fire Dov'è Dov'è Usa la molotov Eh la molotov Hai ragione Non importa La molotov è per deboli Per plebei C'ho la lanterna Mi azzicco la lanterna nel culo Farming Guarda il farming Guarda le sverle Mamma mia se sono on fire E qua Guarda qui Guarda qui che cazzo sono fortissimo oggi Vaffanculo Dai Troppino Ok Vai qua Troppino Sei fiale Mamma mia Un'altra fiala Lo accetto Nemico L'ho visto E qua Rientra c'è una cassa Ok Cassa Cassa a noi due Dov'è Oh salve Lei è una cassa Tempering Blood Genstone Perfect Poi Next Altre casse La cassa stupido Sciccio Allora Felix stai calmo La stanza è piena di oggetti Addirittura Spacco tutto Non ce n'è per nessuno oggi Oggi spacco tutto ragazzi Me ne frega niente Ho streghetta Dai Vai budino di merda di morte Ok Dai Non mi sembra di vedere altre casse Ditemi se ce ne sono altre Non mi pare Allora guarda beh Kimo sabe Kimo sabe Cazzo se sono on fire oggi Ho anche sbloccato la gatling La devo cercare di comprare Per prendere equipaggiamenti Non puoi salire Ok posso salire Kimo Sono on fire oggi Oggi sta andando benissimo Ora muoio di merda Però sta andando benissimo Ho ammazzato il tizio della gatling Prima In una maniera Che ha dell'indescrivibile Però ok Saliamo Non vedo oggetti Salve Lei Lei è un pezzo di merda Non mi faccia fare brutta figura Davanti a Kimo sabe Fortesemente Ah ok Perfetto Tempering blood gemstone Bene così Ottimo Allora La luna rossa È bassa nel cielo Credo E le bestie Comandano sulle strade Ci ha lasciato altra scelta Che bruciarle tutte in cenara Dio mio Oggetto hai missato un item Giù Ah 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 Aiuto Aspetta 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 Dov'è Qua Ok ho missato un item Vedo dove è Regia Come Mi state dicendo Mi sta dicendo che la chat ha fatto un ottimo lavoro Sì confermo Porca troia Abbiamo risparmiato 8000 echi Siete fantastici ragazzi Veramente Meravigliosi Grazie Porca troia Questa è una bella sorpresa C'è anche un'armatura continuando Dovrebbe esserci un set Non c'è di che Oh yes Aspetta No no Adesso Adesso Oggi Oggi giornata bellissima Oggi giornata bellissima Aspetta perché io Prevedo Morte Come Jackpot Va bene A posto così allora Siamo Siamo felici Siamo felici Voglio dire Quel set è bellissimo E mettiamolo Voglio ben dire Insomma Mettitelo ora Subito ragazzi Non discard Non discard Aspetta ho sbagliato Sono andato dall'inventario Scusate Allora Blackwood Ok Dovrebbe essere Questo qua Charred Ho preso il charred Giusto Sì sì Ciccio Vabbè non da qua L'ho capito Dovrebbe essere il charred Giusto Ok È il charred Dovrebbe Sì 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 È il charred Tranquilli Non ho scartato nulla Qua qua Sono solo gambe Torso e pantaloni Ok Ok la testa non c'è Quindi la testa Lasciamo L'hunter Ok Ok Effettivamente c'è un oggetto in meno Va bene Ok Che cosa dice Capes Dumpness Ti rende altamente resistente al fuoco Carino Coloro che Indossavano questa veste Attirava Disattire Hunted down Vittims Attirava Le vittime Dei cacciatori Credo Dei cacciati Oddio scorgio Verso Valle nel regno Che erano sopravvissuti Alle fiamme Ehm Furiose Stange of Singed blood E al sangue stantio Singed Non so cosa significa Sign Forse signed Cioè segnato Del sangue segnato Ok Quindi praticamente è una cappa Che resiste al fuoco E che Lo indossavano tutti coloro Che erano sopravvissuti Alle fiamme E al sangue stantio Perfetto Alla piaga del sangue Esatto Grazie Kimo Solo perché Il mantello Bagnato Giustamente Mannaggia a te Mannaggia Stai buono Kimo Sabe Stai buono Ok Il cappello quindi non c'è Va bene Il cappello in caso si compra Però ragazzi abbiamo risparmiato un botto E adesso E adesso Merda Cosa mi serve Per poterle equipaggiare Ah ok Mi serve Bloodstain Ok Torniamo indietro Selemo di livello E vediamo questa Questa Quest'arma Cos'è Oh Kimo Sabe è impazzito Allora Non possiamo fallire Adesso dobbiamo tornare solamente su Questo qua è tutto il set E non ha altri pezzi Boom Ok Va bene Va bene Saliamo su Niente Kimo è impazzito Kimo è impazzito Qualcuno sopprima Kimo Sabe Please È on fire Però sono fighissimo Guarda che bello Bellissimo Ok Mi piace un sacco Sa molto di Guarda com'è fluente il mantello E tutto quanto Oh Ok Mi piace Mi piace Saliamo su Saliamo su Bene 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 Sono molto felice Dello streaming di oggi Ho un potentissimo mal di testa Ma sono molto felicio Sono molto felix Avete capito Perché sono felice Iscrivetevi A Cypher Ludica Per queste altre simpatiche battute Del sottoscritto Sono contento Che siete contenti Anche voi con me Tutto quanto Wow Sì esatto Appena avrò occasione Ti invaderò Non ci provare neanche Signor bastardo Io gioco offline Così Vaffanculo Va bene Se continui Ti silenzio Per dieci secondi Sei vai a menare la vagina Prego Cosa vuol dire Stiamo mettendo a parte I soldi per il plus We will let you know Ah esattamente Che palle Alex ti voglio bene Whiteward ha time out Ok È stato time out Il signorino Felix Per dieci secondi Cosa c'è qua terra Niente Bene Bene Direi che come fine Dello streaming Non c'è male Vediamo quest'arma Sto piangendo E vabbè Basta che non piangi dal culo Guarda L'importante è quello Quindi Vediamo quest'arma nuova Vediamo cosa fa Prova il rifle Cac Eh si Allora in teoria Allora In teoria Potrei comprare Con gli 8000 Echi Lo stake driver Ma non ho le stat Quindi Sti cazzi Per adesso proviamo il rifle Saliamo di livello E proviamo il rifle Lo stake driver Lo prendiamo Salve a lei Signorina Benissimo Mi faccio succhiare Un poco Il Blotting Giusto Dobbiamo alzare Il blotting Non ho livello Brutto babbo Lo so La lancia è buona Con skill Alta E blotting Alta Cosa che noi Non abbiamo mai Nella vita Ma voglio dire Dimmi che ho abbastanza Blotting Se no bestemmio Sì sì Grazie a lei Grazie a lei Mi ricordo Oh no Ne servono 9 Non ci arriviamo Vabbè Vabbè Niente Mi sa che non ci arriviamo Ma è triste Come Non si sa cosa Posso fare un altro livello Ma No neanche Merda Ti mancano due livelli Ti consiglio Lo steak driver Lo steak driver Piuttosto che la lancia Lo so Lo so Lo volevo provare Ma Non mi bastano Ti vado pure io Con il tagliapizza elettrico Ho detto adesso Ubimarve cosa mi avevi scritto Cosa Ma Niente E vabbè Pazienza Però Abbiamo acquisito Molta esperienza di gioco Ho fatto diversi perri Non è vero Abbiamo ammazzato due cacciatori E abbiamo distrutto anche il tizio Con la Con la gathering Quindi io direi Che 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 Direi che Così va bene Vi siete comportati Benissimo In chat Sono molto contento Del comportamento Di tutti Soprattutto di Kimo Sabe Che anche se è arrivato tardi C'è stato con Lo spirito Va bene Dovrà comunque Livellarlo minimo più avanti Sì infatti Ora poi la livella Non è un problema Dai prossimo live Venare la vagina Prossimo live Si sverginano le vergini Ava Cos'è Ava Eh sì Devo staccare Kimo 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 bacino Ma Tanta censura Non ti preoccupare Kimo perché noi Le fiamme non muoiono mai Capito Perché Eh Sono simpatico Allora ciccio Allora Felix Dimmi Felix Dimmi Felix Ti prego Vai così Cosa Allora Felix Voglio che tu Scrivi un messaggio Poetico Fallo velocemente Però ti prego Per poter chiudere Questo streaming Tu che sei Il nostro saggio Il nostro ricercatore Della verità Ma veramente Su Dark Soul Le fiamme muoiono Non siamo su Dark Soul Se tu conosci bene La nostra Ambientazione Signorino Kimo Sabe Ct Niente scusatemi C'ho un po' di riscia Scusate Non volevo essere un cretino Ma purtroppo lo so Comunque Visto che ho visto Visto che ho visto Visto che è arrivato Ubi Marvel nuovo Io Ricordo che abbiamo Il nostro canale Telegram Per ricordare Quando siamo In live Guarda che bello Le mie maniche trafiggono E Roses are red Violets are blue Affanculo Ci vai tu Perfetto Felix Grazie mille Veramente Quindi Noi ci risentiamo Lunedì Alle ore 15 Ricordo che la settimana prossima Siccome c'è retna comics Io non ci sarò Né giovedì Né venerdì Né sabato Né domenica Quindi noi faremo streaming Lunedì Martedì E mercoledì Lunedì alle 15 Martedì alle 15 Mercoledì alle 15 Lunedì probabilmente Faremo Minecraft In un server Particolare Spero che ci siate Spero che vi possa interessare Quindi A lunedì Tante care cose Vi si vuole tanto bene Grazie per avermi invitato Tantissimo oggi Grazie al follower A Ubi Marv Che è arrivato oggi Grazie a tutti quanti Mi vengo a trovare Con il pene in mano Guarda non vedo l'ora Ah E tra altre cose Chi è retna comics Mi può trovare Nello stand Dove fanno Kendo Area Japan Piccola parentesi Mi sembro onesto Sì infatti Che io la buonamente Voglio accompagnare Mi rompo le palle Giustamente Quando vai Mai Giustamente Tutti e 4 giorni Feryx ti stupro la vagina Zona Japan Stand Kendo Vi aspetta numerosi Col culo A ponte Va bene? Tante care cose ragazzi Mi raccomando Andateci armati Sì Perché vi faccio un culo Così altro che Perry Non vi faccio vedere io Tante care cose ragazzi Buon weekend Vi si vuole bene